Farà tappa anche nella città di Agropoli il vice ministro per la salute Pierpaolo Silieri per andare a visitare la struttura ospedaliera. Oltre al presidio agropolese il vice ministro alla salute visiterà anche gli ospedali di Polla, Sapri e Roccadaspide. La prima tappa prevista per domani mattina sarà all'ospedale Luigi Curto alle ore 10, poi a seguire alle ore 11.30 a Sapri. Alle 13.15 il vice ministro si fermerà all'ospedale di Agropoli ed infine alle 14.30 farà visita all'ospedale di Roccadaspide. Strutture svuotate, presidi sanitari esautorati nelle proprie azioni, carenze di personale. Tutte criticità che sottoporremo all'attenzione del vice ministro della salute Pierpaolo Silieri, sottolineando la nostra lotta per il diritto ad una sanità pubblica efficiente per la necessità di una pianificazione di una rete regionale dell'assistenza che includa i presidi sanitari di prossimità, in particolare nelle aree interne, scrive annunciando la visita del vice ministro il senatore Francesco Castiello sulla sua pagina istituzionale di Facebook.